Una sfida ai fornelli senza esclusione di piatti. Chef, pasticceri, cake designer e allievi di cucina e pasticceria in gara con un unico obiettivo, essere eletti i migliori del 2019 nelle rispettive categorie. Si è rinnovato anche quest'anno nella sala ricevimenti Lo Smeraldo di Canosa di Puglia l'appuntamento con l'Era Cleodoro, il concorso culinario nazionale organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT. La Kermess ha aperto le porte per il settimo anno ai maghi della cucina arrivati da tutto il territorio, schierati tra pentole e padelle per tirare fuori il meglio della loro abilità gastronomica, giudicata da una giuria di professionisti come lo chef stellato andriese Felice Sgarra. A trionfare, dopo un'attenta selezione delle singole proposte dei partecipanti, sono stati il foggiano Giuseppe Scarlato per la sezione cucina professionisti, la leccese Maristella Damo nella categoria cake design, mentre la palma di più bravo tra i pasticceri è andata al tranese Vincenzo D'Amato. Ma al di là del podio, a vincere è stata ancora una volta la passione per la cucina, abbinata alla creatività, per valorizzare al meglio i sapori della traduzione culinaria del territorio. I giudici stanno vedendo una crescita enorme di questi piatti con una valorizzazione a livello internazionale e questo per l'Associazione Cuochi e Pasticceri è un grandissimo vantaggio. Qual è il tema di questa edizione? Allora noi abbiamo come tema, praticamente abbiamo la patata, stiamo valorizzando i prodotti nostri, ogni anno abbiamo un tema dei prodotti nostri. Oltre al palato, l'edizione 2019 dell'Era Clodoro ha voluto esaltare anche la lingua. Per la prima volta in assoluto, infatti, i giudici hanno attribuito un punteggio aggiuntivo ai concorrenti che sono stati in grado di spiegare le loro ricette esclusivamente in inglese. All'estero ci chiedono maggior parte ragazzi e professionisti pugliesi, perché no, andare all'estero e non sapere anche la lingua, perché ci chiedono anche questo. E dare, ecco che stiamo dando la possibilità, oltre ad avere la ricetta normale, diamo una ricetta con lingua in inglese. La gara culinaria ha visto la partecipazione di allievi diversamente abili, affiancati da tutor e docenti di sostegno. Un'altra novità importante per una manifestazione che premi il talento, la creatività, l'innovazione, ma che pensa anche alla solidarietà. Sono ragazzi che effettivamente hanno bisogno di esprimersi e perché no, anche in cucina.